Buonasera a tutti, ben ritrovati per questo quinto appuntamento relativo alle sfide per gli ingegneri ambientali per un futuro più verde. Di che cosa parliamo questa sera? Parliamo di una delle sfide che sono chiaramente più importanti non solo per l'ingegneria ambientale ma direi per la sopravvivenza stessa del nostro pianeta, cioè come quali siano gli approcci, quali siano le tecnologie disponibili per progettare un futuro ambientalmente sostenibile. La professoressa Zanetti ci guiderà quindi in un ragionamento nel quale emergeranno le considerazioni relative a che cosa significhi innanzitutto ambientalmente sostenibile, quindi questa parola come possa essere declinata, ma soprattutto quali siano le strategie, quali siano le tecnologie per ridurre alla fonte le emissioni solide, liquide e gassose in ambienti esterni. La nostra relatrice di oggi, la professoressa Zanetti, probabilmente la conoscete bene, è professore ordinario presso il Dipartimento di Iati, presso il mio Dipartimento nel settore dell'ingegneria sanitaria ambientale, è stata a lungo direttrice del Dipartimento stesso e ha nella sua carriera svolto attività in molteplici ambiti, tutti pertinenti e strettamente connessi all'ingegneria ambientale, ambiti che spaziano dalle questioni relative alla depurazione, all'inquinamento delle atmosferico, recentemente alla biofissazione dell'anidride carbonica, quindi uno spettro assolutamente multiforme di attività, di interessi, di pubblicazioni, a testimonianza sicuramente di una capacità di interpretare il ruolo dell'ingegnere ambientale nella maniera più ampia e più consona quello che effettivamente ci chiede il mondo esterno. Non rubo tempo ulteriore, lascio la parola a Maria Chiara che colgo l'occasione per ringraziare per la disponibilità dimostrata nel voler tenere questo seminario. Grazie Maria Chiara, ti lascio la parola. Buongiorno a tutti, grazie Francesco per la splendida presentazione. Qualche idea, oggi cercherò di dare qualche idea e cercherò di far capire che dobbiamo lavorare tutti per un obiettivo, per questo obiettivo appunto di avere un futuro, se non senza inquinamento, però sicuramente in condizioni molto migliori di quelle che abbiamo oggi. Quindi qual è il futuro che vogliamo? Allora partiamo da un ieri, in cui con provocazione ho messo un'immagine di questo tipo, in cui sicuramente di inquinamento ce n'era molto meno, ma la qualità della vita era sicuramente molto diversa da quella che abbiamo oggi. Ecco che siamo a oggi, questa potrebbe essere una rappresentazione di quella che è la nostra situazione di oggi. Dove vogliamo andare domani? Ecco, è chiaro che il domani che vi presento non è un domani che pretende di ritornare a dove eravamo ieri, ma è un domani che cerca di coniugare quello che è lo sviluppo e la qualità di vita che oggi abbiamo con una salvaguardia dell'ambiente. È possibile, questa è la domanda, allora è possibile se tutti noi ci diamo da fare. Queste che vedete qua in un'immagine, se volete, di provocazione, sono quattro persone che grazie alla loro volontà sono riusciti a fare grandi cose. Quindi noi, con la nostra volontà, se sappiamo come agire e se vogliamo agire una certa direzione, siamo in grado di ottenere quello che vi ho fatto vedere, cioè uno sviluppo sostenibile con una qualità della vita buona, migliore, ottima per tutti, però con la salvaguardia dell'ambiente. Venendo al dettaglio più tecnico, allora in che modo noi creiamo delle fonti di emissioni che vanno a impattare sull'ambiente? Sicuramente con le attività produttive, perché noi abbiamo comunque la necessità di produrre, di avere dei prodotti che sono quelli che ci consentono di avere la vita di oggi, che ci piace, che vogliamo conservare e per avere questi prodotti ci servono materie prime, energia, acqua. Il tutto poi si trasforma in un prodotto ma ci sono degli scarti, scarti che possono essere solidi, liquidi o gassosi, quindi a seconda parliamo di rifiuti, emissioni gassose o acqua e refue. I prodotti poi ecco che vanno al consumo, quindi nella nostra realtà quotidiana, che può essere una realtà urbana come anche non urbana, comunque i prodotti che possono essere molteplici, possono essere il cibo, possono essere le auto, possono essere tutto quello che ci serve per condurre la vita che oggi abbiamo, unitamente sempre a energia e acqua che noi comunque tutti i giorni consumiamo, ecco che ci consentono appunto di vivere e noi, anche noi nelle nostre case, nella nostra vita quotidiana, a nostra volta produciamo dei rifiuti, delle emissioni gassose, delle acque refue. Quindi per salvaguardare l'ambiente, per arrivare a uno sviluppo a inquinamento ridotto, se non pari a zero, dove bisogna agire? E dobbiamo agire dove c'è il cerchio rosso, quindi dobbiamo minimizzare queste emissioni, che sono queste che creano il danno all'ambiente. Come si può fare? Allora, le strategie possono essere molteplici. Allora, quando si è cominciato a parlare di salvaguarda dell'ambiente in Italia, ed era più o meno agli anni 70, l'approccio che si è utilizzato è il cosiddetto approccio end of pipe, e questo è un approccio tradizionale, cosa vuol dire? Vuol dire che noi partiamo da quelle che sono i rifiuti, l'acqua refua, le emissioni gassose e le trattiamo per renderle idonee alle normative, per renderle idonee a una qualità tale da non creare danno per l'ambiente. È chiaro che con questo tipo di approccio bisogna essere in grado di intercettare tutte le emissioni e bisogna essere consci e pronti ad adottare i trattamenti che sono utili a ottenere quelli che sono gli obiettivi di qualità. Quando siamo arrivati più o meno alla fine degli anni 90, si è introdotto da parte della Commissione Europea un approccio di tipo diverso, che è l'approccio del controllo alla fonte. In cosa si differenzia da quello di prima? È un approccio moderno che è promosso da normative e accordi internazionali e consiste nel riesaminare i processi che comportano emissioni inquinanti, perché si tratta di rivedere i processi per ridurre a monte le emissioni solide, liquide e gassose. Questo ovviamente non elimina completamente l'approccio più tradizionale, cioè il controllo end of pipe, ma fa in modo che sia sempre più ridotta e ricorrere a questo tipo di approccio. Perché? Perché se noi siamo in grado di ridurre a monte le emissioni, sarà molto più ridotto quello che è il trattamento residuo per renderle idonee a una sostenibilità ambientale. Quindi il concetto è che con questo nuovo approccio prevenire è meglio che curare ed è un po' l'approccio che abbiamo seguito in questi ultimi mesi, come avete potuto vedere. Quindi come possiamo integrare questi due approcci? In primis la riduzione alla fonte e successivamente è anche l'approccio end of pipe. Allora la riduzione alla fonte vuol dire che bisogna variare il processo, variare la tecnologia, variare il tipo di prodotto e variare anche le materie prime. Queste sono tutte strategie che possono consentirci di ridurre le emissioni che sono solide, liquide e gassose. Entriamo un po' più nel dettaglio. Ad esempio se abbiamo un'attività produttiva, un'industria che produce un certo tipo di prodotto, parliamo ad esempio di acciaio, vuol dire che io utilizzerò delle materie prime che sono in grado di ridurre gli scarti della produzione dell'acciaio. Ma questo tipo di discorso si può applicare anche a casa nostra. Ad esempio io posso andare al supermercato e scendere i prodotti che mi consentono di minimizzare gli scarti degli imballaggi. Questa è un'altra possibile strategia che ognuno di noi può perseguire a casa per ridurre le emissioni. Parliamo di acqua. Allo stesso modo l'acqua utilizzata in azienda per diversi processi può essere trattata e riutilizzata. Parliamo anche noi di acqua all'interno delle nostre case. Possiamo sicuramente cercare di risparmiare acqua chiudendo il rubinetto quando non ci serve. Ma un intervento anche tecnologicamente più evoluto può essere cercare di avere all'interno delle diverse case la separazione ad esempio tra acqua che viene usata a scopo potabile, acqua grigia e acqua refra, cioè avere delle reti integrate per cercare di tenere distinti i flussi per cercare di riutilizzare più possibile diverse tipologie di acqua. Una volta che si è ridotto alla fonte quella che può essere l'emissione con quelle strategie che abbiamo visto, ecco che abbiamo ancora una possibile strategia che è quella del riuso o riciclo. Allora riuso è quando si tratta di una emissione che può essere solida o liquida per riutilizzarla nello stesso ciclo produttivo. Ad esempio se io recupero uno scarto di un'azienda per riutilizzarla all'interno dello stesso ciclo produttivo allora parlo di riuso. Parliamo ad esempio magari di pneumatici utilizzati, se io riutilizzo gli stessi pneumatici per produrre nuovi pneumatici ecco che questo è un riuso. Ovviamente per riuscire a fare questo serve un trattamento. Stessa cosa per il riciclo vuol dire che io prendo uno scarto, lo tratto e poi può essere utilizzata per uno scopo diverso da quello cui si era prodotto l'emissione. Ecco, quindi dopo aver cercato di ridurre alla fonte tutto quello che era possibile effettuare quando da avere una riduzione delle emissioni, ecco che c'è ancora il tentativo di riutilizzare o riciclare quello che comunque si è prodotto e solo a valle di questo io posso pensare a un eventuale recupero energetico per una qualche forma di rifiuto solido che contenga energia e da ultimo lo smaltimento finale. Quindi vediamo che la soluzione migliore è quella che io ho sottolineato qui in colore giallo, passo poi alle soluzioni intermedie che sono quelle col colore rosa che comunque comportano delle azioni di trattamento e invece le soluzioni peggiori sono quelle che trovate appunto con incolori. Poi un'altra slide per illustrare il tipo di approccio, quindi vedete in giallo quello che consiste la riduzione alla fonte, quindi le varie strategie che ci possono consentire di ottenere questo scopo di riduzione alla fonte delle emissioni e poi invece in fucse avete l'altra strategia, quella del trattamento per cercare di ulteriormente riutilizzare, riciclare quello che è un'emissione comunque prodotta per comunque evitare un impatto sull'ambiente. Quindi detto questo quali saranno le sfide dei prossimi anni? Allora sicuramente una sfida che è già in atto e su cui si sta già lavorando ma che deve ancora concretizzarsi è quella di fare dell'ambiente una risorsa per l'industria. Perché questo? Perché chiaramente nel momento in cui si è cominciato a parlare di politica ambientale immediatamente per l'industria questo è stato un aggravio di costi perché si sono dovute trovare ad aggiungere dei trattamenti per rendere idonee delle emissioni allo scarico nell'ambiente esterno, cosa che prima non facevano, quindi questo è stato un aggravio dell'attività produttiva. Però se invece si adotta questo processo di riduzione alla fonte che coinvolge anche una scelta di materie prime di tipo diverso addirittura l'ambiente può diventare una risorsa aggiuntiva e può comportare un risparmio anche da un punto di vista economico e questo è fondamentale per l'industria perché comunque è importante cercare di agevolare l'attività produttiva. L'altra sfida è zero rifiuti, ecco chiaramente zero rifiuti è un obiettivo cui noi dobbiamo tendere e passa attraverso la minimizzazione, minimizzazione che consiste come abbiamo visto prima nella riduzione alla fonte, nel riuso, riciclo e da ultimo nel recupero di energia. Parliamo di zero scarichi, quindi vuol dire utilizzare l'acqua ripetutamente mediante trattamento e riutilizzo e parliamo di zero emissioni gassose, anche questo grazie all'ausilio del trattamento. Per riuscire a ottenere questi obiettivi, raggiungere questi obiettivi occorre lo sviluppo di nuove tecnologie e processi e questo è un ruolo fondamentale ad esempio per gli ingegneri e per gli ingegneri dell'ambiente e del territorio che sono chiamati a questa sfida. Ma il ruolo degli ingegneri del Parlamento del Territorio ma degli ingegneri o dei tecnici in generale io lo vedo molto anche nelle politiche gestionali e ambientali perché la riduzione alla fonte non è un qualcosa che può essere lasciato al singolo o alla singola azienda perché deve essere una politica che deve essere scelta a livello nazionale e a livello internazionale. È già stato fatto perché come vi dicevo già da fine anni 90 c'è stata fatta l'adozione, è stato imposto dalla Commissione Europea che diversi Paesi membri devono andare nell'industria verso l'adozione delle BAT. Cosa sono le BAT? Sono le migliori tecnologie che consentono la minimizzazione dell'emissione, siano esse solide, liquide e gassose. È stato firmato il protocollo di Chioto, chiaramente il protocollo di Chioto è più rivolto all'emissione di gas serra ma anche questo ha una filosofia di minimizzazione alla fonte delle emissioni e sono in atto diversi piani di qualità europei, soprattutto piani di qualità dell'aria cui le diverse nazioni si devono adeguare, cui le diverse regioni si devono adeguare, che sono tutte mirate a raggiungere una qualità dell'aria migliore. Quindi in realtà il ruolo del tecnico, dell'ingegnere dovrebbe riuscire ad arrivare ad affiancare chi fa queste politiche gestionali e ambientali perché senza la conoscenza tecnica è difficile riuscire a studiare quelli che sono gli strumenti opportuni per raggiungere questi obiettivi. Abbiamo poi ovviamente le nuove tecnologie che devono essere studiate, devono essere applicate e su cui c'è molto da inventare e poi è fondamentale comunque l'impegno dei singoli perché detto quali sono i problemi è chiaro che ognuno a casa propria deve cercare di fare tutto quello che è possibile per andare verso questa sostenibilità ambientale perché comunque questo obiettivo passa attraverso l'opinione di tutti. Nel momento in cui abbiamo delle nuove tecnologie, stiamo studiando delle nuove tecnologie, è importante ovviamente l'analisi tecnica cioè capire se funzionano ma non basta, dobbiamo già anche subito avere un'idea di quelli che sono gli effetti ambientali delle tecnologie, fare un'analisi energetica e anche un'analisi economica della tecnologia perché a noi interessa non solo che funzioni ma interessa che sia applicabile e sia applicabile con dei vantaggi economici. Tutto questo ad esempio può essere anche per questo tipo di analisi, si può ricordare allo strumento dell'iCycle Assessment o l'iCycle Analysis che è uno strumento che consente di riuscire a coniugare insieme l'analisi degli effetti ambientali, energetici ed economici. Tutte queste valutazioni sono utili a fornire gli strumenti decisionali o di pianificazione territoriale che servono a chi deve decidere per capire qual è la strategia giusta per raggiungere l'obiettivo. Guardando un po' più nel dettaglio, ad esempio per fare qualche esempio, per raggiungere l'obiettivo zero rifiuti abbiamo visto che dobbiamo valorizzare i rifiuti, quindi prima di tutto dobbiamo ridurli alla fonte, ma una volta che comunque una certa quantità di emissioni sono presenti, ecco che dobbiamo studiare le tecnologie per il riutilizzo e il riciclo delle frazioni utili o nello stesso ciclo produttivo o in altri cicli produttivi. Quello che vedete, lo schema che vedete qua in alto a destra è uno schema che può essere adattato sia per il riutilizzo di frazioni utili dai rifiuti solidi urbani, sia per il riutilizzo di frazioni utili ai rifiuti industriali e attenzione che poi i prodotti che derivano da questi trattamenti è importante che trovino il loro utilizzo, perché altrimenti se non abbiamo il loro utilizzo capite che tutte le varie operazioni di trasformazione fatte prima non sono utili. Parlando di recupero energetico, per i rifiuti è un campo anche questo importante perché coniugare tecnologie innovative consente in ogni caso a valle del recupero di ottimizzare quello che è il recupero di energia e nello scenario che oggi abbiamo di scarsità o comunque di elevati costi energetici tutto quello che è possibile di recuperare è sicuramente utile. Parlando di zero scarichi ecco che abbiamo tutte le possibili tecnologie in modo da considerare un'acqua reflua, in questa slide è in realtà un'acqua reflua civile, quindi che esce dalle nostre case, ci sono diverse tecnologie che sono idonee a trattare e recuperare l'acqua per un riutilizzo, anche acqua di altissima qualità e anche i fanghi che derivano in ogni caso dal trattamento acqua e ci sono nuove tecnologie che stanno sempre più consolidando che consentono di recuperare delle risorse utili, ad esempio dei fertilizzanti, dei sali eccetera che possono trovare un nuovo utilizzo in modo da minimizzare lo scarto finale di tutte le operazioni. Questo è un altro esempio che è sempre per andare verso uno scarico pari a zero, ad esempio tecnologie per un'agricoltura più pulita, quindi si stanno studiando nuovi pesticidi che sono in grado di minimizzare le dosi dei pesticidi per gli scopi per cui comunemente sono utilizzati e in modo da avere molti meno o ridotti risvolti sull'ambiente. Parlando di zero emissioni gassose, questo è un tema molto attuale soprattutto nel contesto torinese in cui tranne appunto in questi tre mesi in cui la situazione è stata particolare, normalmente in inverno nel contesto torinese ci sono diversi allarmi per quel che riguarda la qualità dell'aria. Quali sono i contributi e la qualità dell'aria? Di solito c'è il contributo industriale, il contributo civile e il contributo dei trasporti. Quindi come abbiamo già detto ci sono dei piani sia a livello europeo che a livello regionale che nazionale che sono mirati a ridurre quello che è l'impatto delle fonti sulla qualità dell'aria e come si può fare? Allora si può fare per quanto riguarda i trasporti cercando di andare su trasporti sempre più sostenibili, cercando di trovare fonti energetiche rinnovabili che sono in grado di sostituire le fonti energetiche fossili, cercando di avere degli edifici a maggiore efficienza, quindi che richiedono meno energia per il riscaldamento perché comunque conservano meglio l'energia, tutte queste strategie sono in grado di aiutarci a migliorare la qualità dell'aria. Poi parlando appunto di industrie, quello che avete nella slide nella parte bassa in realtà è un'industria per la produzione di energia, è possibile anche adottare le migliori tecnologie disponibili o usare combustibili meno inquinanti in modo da cercare di diminuire sempre di più l'impatto sull'ambiente delle attività. Teniamo comunque presente che c'è un inquinamento pregresso, quindi anche se dal tempo T uguale a zero in poi noi non producessimo più emissioni inquinanti noi abbiamo un pregresso con cui dobbiamo fare i conti e quindi come tale per avere un ambiente sostenibile dobbiamo sicuramente lavorare anche alla bonifica del pregresso. Quindi anche un altro sbocco interessante per ingegneri ambientali è sicuramente quello di avere tecnologie innovative in modo da cercare di recuperare, rimediare a quello che è stata l'attività dell'uomo nel tempo passato. Quindi tutto questo per dire che c'è spazio, dobbiamo darci tutti da fare per progettare un futuro senza inquinamento e c'è bisogno di tutti voi. Quindi we want you. Grazie a tutti per l'attenzione e sono a disposizione poi per eventuali domande. Grazie mille Maria Chiara, lascio la parola come da programma al professor Rebelli per illustrare come queste tematiche rientrino nelle tematiche che caratterizzano i nostri percorsi formativi. Roberto è il nostro referente dipartimentale per la didattica. Prego Roberto. Ma io vi rubo solo un paio di minuti. In realtà la professoressa Zanetti ha già detto tutto quello che avrei voluto dire. Riprendo solo due frasi. Una prima frase che ha detto all'inizio che bisogna lavorare tutti insieme per un futuro possibile e una seconda frase che ha detto è senza conoscenza tecnica è difficile. La parafrasa un po' perché non me la ricordo perfettamente. Comunque senza conoscenza tecnica è difficile cercare o capire le soluzioni per i problemi e in questo modo dare una mano a chi deve prendere le decisioni. Secondo me l'anima dell'ingegnere ambientale è un pochino dentro queste due frasi. Se vogliamo riassumere tutto quanto l'ingegnere ambientale è una persona che si prepara a gestire la complessità soprattutto senza banalizzarla perché il rischio adesso è di dire che i problemi sono complessi ma a volte di banalizzarne le soluzioni e in questo modo cercare di capire i processi e le soluzioni che consentono una interazione sostenibile tra l'uomo e l'ambiente. A questo proposito vi ricordo i due percorsi, il percorso di primo livello di ingegneria ambientale e il percorso di secondo livello che è diviso nei quattro orientamenti, climate change che è il primo che è stato messo in piedi a livello europeo di questo tipo di cui c'è stato adesso il primo anno e partirà adesso il secondo anno, l'orientamento di tutela ambientale che è forse quello più vocato agli argomenti di cui ci parlava la professoressa Zanetti adesso, l'orientamento in protezione civile e infine l'orientamento in geoengineering, quello un po' più legato alla gestione delle risorse. Ecco questi quattro orientamenti sono sicuramente tutti in grado di fare quello che dicevamo prima, cioè di prepararsi, quello che deve fare un ingegnere ambientale proprio a gestire questa complessità. Volevo solo chiudere con un velocissimo avviso, poi al solito se ci sono domande posso anche rispondere dopo o questo avviso solo per ricordare che tutti i mercoledì dalle 14 alle 16, Elisa Vanina adesso vi sta dando anche dei link, c'è un momento in cui la coordinatrice del collegio, la professoressa Socco e i vari docenti sono disponibili in una sorta di aula virtuale per rispondere o per parlare a eventuali persone interessate ai nostri percorsi. Quindi ve lo ricordo tutti i mercoledì di giugno e di luglio dalle 16 alle 18 c'è questa ulteriore possibilità. Grazie Roberto, a questo punto possiamo aprire alla sessione di domande e risposte, ce n'è già una prima che è emersa in cui si chiede se sia possibile considerare la nano remediation come una tecnica utile in Siberia dove qualche giorno fa c'è stata una grande perdita, 20 mila litri di carburante diesel. Quali sarebbero le tempistiche necessarie per mobilizzare le dovute tecniche di bonifica e contenere al minimo il danno? In una domanda già piuttosto specifica, Maria Chiara vuoi commentare su questo tema? Allora, adesso ovviamente ne so poco, se non quello che ho letto sui giornali, però prima di andare con la nano remediation bisognerebbe intervenire tempestivamente per arginare la mobilità dell'idrocarburo che è stato sversato e quindi raccogliere il più velocemente possibile quello che è presente. Di solito si fa con sistemi di emergenza che sono in grado di mettere dei sistemi più affini all'idrocarburo che per l'acqua e così si toglie la maggior parte dell'idrocarburo. Quando si è fatto questo lavoro ci si può dedicare alla fase di sciolta e pensando a fase di sciolta da vedere, essendo lì fa freddo non si può utilizzare un metodo biologico perché ci sono appunto questi problemi, una soluzione potrebbe essere l'iniezione di reattivi e tra i vari reattivi ci potrebbero essere anche i nanoreattivi, quindi potrebbe essere utile in questo senso, ma non in una fase immediata, prima bisogna cercare di contenere l'inquinamento altrimenti non funzionerebbe insomma. Grazie, io ho una domanda di carattere un pochino più generale, tu hai parlato spesso di emissioni zero waste, zero waste, ecco ma tecnologicamente, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista tecnico, ha senso parlare di zero o comunque zero è sempre un'approssimazione di una quantità molto piccola? Zero è sempre un'approssimazione di una quantità molto piccola perché a zero ci sono dei limiti fisici cui tendere, soprattutto ad esempio se parliamo di rifiuti, tranne nel caso di materie prime di metalliche, che quando tu le recuperi hanno esattamente le stesse proprietà dei metalli originali, nella maggior parte dei cadi se io recupero carta per fare altra carta o se recupero plastica per fare altra plastica e così via, in realtà pian piano le caratteristiche del materiale peggiorano e questo vuol dire che avrò sempre uno scarto, uno scarto che può essere piccolo ma comunque lo scarto ci sarà, quindi in realtà zero è un obiettivo ma vuol dire cercare di avvicinarci a questo obiettivo, quindi sì, ecco in quel senso lì è uno slogan che difficilmente può essere raggiunto se non in casi particolari, ecco. Grazie. Vediamo se emergono ulteriori domande dalla chat, forse sì, sono solo io che devo scorrere, scusatemi. Ti chiedono se ti sembra possibile e utile monitorare gli oggetti in entrate in ogni abitazione e poi i rifiuti, quindi fare una sorta di analisi input-output per quanto riguarda le singole abitazioni, la spesa da una parte come ingressi e rifiuti dall'altra come uscite per valutare in qualche modo il flusso complessivo e comprendere se sono delle inefficienze da gestire, quindi se ha senso lavorare alla scala così piccola di singola unità abitativa. Ma io penso che sia meglio lavorare a livello di sistema, allora gli ingressi si controllano bene con delle politiche governative a mio parere, politiche governative cui illustravo prima e cui sarebbe importante che partecipassero i tecnici in modo da capire bene quali sono i vantaggi o gli svantaggi delle soluzioni che si vanno a proporre alle persone, quindi far trovare alle persone anche al momento dell'acquisto già solo un certo tipo di prodotto imballato in un certo modo eccetera, io interverrei così per l'input a monte. Per quel che riguarda i rifiuti in realtà c'è già la possibilità di monitorare, in teoria noi dovremmo pagare non in base ai metri quadrati della nostra abitazione che in realtà in molte parti d'Italia è ancora così, ma in teoria noi dovremmo pagare in base ai rifiuti indifferenziati che escono dalle nostre case. Perché non lo facciamo? Perché questo vuol dire che chi viene a ritirarvi i rifiuti deve avere un sistema di pesa dei rifiuti e deve avere la possibilità di mettere tutti i dati in un database e quant'altro. In alcune parti di Italia si fa tipo Bolzano eccetera, in altre parti invece in molte altre parti in realtà siamo ancora alla passa al metro quadrato. Quindi in realtà si potrebbe agire su questo aspetto per quel che riguarda i rifiuti. Per quel che riguarda l'acqua in realtà chi guarda la bolletta sa già che noi paghiamo sempre di più quanto più acqua consumiamo, quindi se volete questo dovrebbe essere già un deterrente e poi altri tipi di controlli adesso non ci sono, però è chiaro che se potessimo installare dei sistemi che ci consentono di massimizzare l'efficienza e l'utilizzo dell'acqua, quello sarebbe già comunque un altro aspetto utile da adottare. Grazie, la successiva domanda attiene alla pandemia che stiamo vivendo, che speriamo di aver finito di vivere. Ci riporta al fatto che ha avuto degli impatti ambientali e tutto sommato positivi a partire da una riduzione delle emissioni di gas clima alteranti. La domanda è in questo senso se si possa imparare qualcosa o comunque addirittura sfruttare quanto abbiamo compreso in questa crisi per capire su quali strade si possa agire senza intaccare ulteriormente quelli che sono naturalmente i meccanismi produttivi che già sono stati messi a dura prova perlomeno nel nostro paese. Resta una domanda difficile onestamente, nel senso che sì abbiamo visto che se non usiamo le auto la qualità dell'aria migliora, ecco in realtà questo lo sapevamo già anche prima e però non usare l'auto comporta avere disposizione dei mezzi pubblici efficienti, quindi in realtà la strada c'è, allora forniteci dei mezzi pubblici efficienti e noi tutti li useremo, lavoriamo in queste direzioni per quel che riguarda i mezzi pubblici. In realtà in questo periodo si è visto che in parte l'inquinamento atmosferico è migliorato, ma in parte in realtà parlando ad esempio di particelle sotto i 2,5 micron, quindi PM 2,5, è rimasto circa costante, questo perché probabilmente è dovuto al riscaldamento e in ogni caso stando a casa il riscaldamento l'abbiamo usato lo stesso, quindi questo è rimasto. È chiaro che ad esempio per seguire soluzioni tipo il teleriscaldamento che a Torino, ricordo, è la città più teleriscaldata d'Italia, ecco che consente di ovviare anche a questo problema del teleriscaldamento. Questa però è una soluzione di pianificazione territoriale che va quindi studiata a livello di politica ambientale, cui citavo prima insomma. Grazie, vediamo se emergono ulteriori questioni dalla chat. Nel frattempo mentre eventualmente altre persone chiedono, ti chiedo io una curiosità, so che tu sei molto addentro anche alle dinamiche di smaltimento dei rifiuti. Ci vuoi dire, altrettanto sappiamo che nell'ambito della gestione dei rifiuti, in particolare della raccolta differenziata, circolano fake news piuttosto solide relative al fatto che poi i prodotti differenziati finiscano tutti nel nostro calderone. Ci vuoi dare qualche, diciamo, cenno a questi argomenti? Rassicurazione. Rassicurazione, anche se è possibile, meglio ancora. Diciamo che qualcosa di vero c'è sicuramente, fino a che punto in realtà dipende un po' dall'economia globale. Per darti un'idea, ad esempio parlando di carta, noi raccogliamo in modo differenziato la carta, la carta recuperata può essere riutilizzata per fare l'altra carta, ovviamente non carta bianca, carta di qualità un po' diversa, ma può essere fatto. C'è stato un periodo in cui in questa economia globale in cui oggi dobbiamo fare i conti, la Cina esportava la sua carta da macero in Italia, perché comunque la carta da macero cinese era più economica della nostra carta da macero. Allora, in quel periodo la carta che noi abbiamo raccolto in modo differenziato effettivamente non aveva il destino auspicato, cioè l'utilizzo per nuova carta. In qualche caso è stata incenerita e quindi almeno c'è stato un recupero energetico, in altri casi no. Ecco, quindi era un po' il discorso che facevo prima, cioè tutto questo va studiato a livello di politica ambientale, governativa, centralizzata, perché se non si tiene conto di tutti i vari fattori, magari ti trovi a raccogliere in modo differenziato per raggiungere degli obiettivi imposti dalla legge, ma poi non hai le utenze per sistemare quello che tu hai raccolto in modo differenziato. Allora può succedere quello che tu dicevi, che non tutto ha il ciclo e la destinazione virtuosa che sarebbe assolutamente auspicabile. Sì, sì, quindi un esempio paradigmatico di sistema complesso nel quale interagiscono elementi di carattere economico, di carattere sociale, di carattere ambientale, che sono inestricabilmente legati e che vanno trattati effettivamente tutti insieme. Eh sì, perché se tu guardi solo un pezzo, ecco che poi alla fine può non tornare il risultato, insomma. Una domanda un po' specifica, l'uso dell'artificial intelligence è connesso ancora alla site remediation, ci chiedono se il dipartimento ha qualche progetto pilota riguardante l'artificial intelligence, se ci sono progetti congiunti con altri dipartimenti come il dipartimento di informatica. Tu ne hai qualche notizia specifica su queste tematiche? Allora, credo ci sia qualcosa sul monitoraggio delle bonifiche, perché in ogni caso uno dei punti importanti, al di là del fatto di scegliere la tecnologia e quant'altro, è quello di monitorare l'effettivo andamento della modifica e quindi riuscire a avere a disposizione degli strumenti per lo più messo a punto da informatici ed elettronici che sono in grado di monitorare in continuo alcuni parametri senza dover raccogliere il campione e fare l'analisi chimica, è importante, quindi credo che ci sia qualche progetto di ricerca congiunto per la messa a punto di sensori particolari che sono in grado di riuscire a dare i risultati dell'andamento della bonifica. Teniamo presente che le bonifiche durano anni e quindi riuscire ad avere questi dati a basso costo per un lungo periodo è uno dei problemi maggiori, perché ovviamente altrimenti i costi li evitano tantissimo, quindi questo è quello che io so. Poi in realtà come Dipartimento su altri temi ne abbiamo tanti di progetti trasversali, quello sicuramente sì, però sulle bonifiche che io sappia c'è questo tema solo. Con questo quindi vorrei ribadire i ringraziamenti alla professoressa Zanetti e al professor Rivelli per i loro interventi, ringrazio tutti voi per la partecipazione.